Mario Contino è uno scrittore di origine cilentina, ritenuto tra i più produttivi del nostro paese. Ricercatore di fama internazionale sul mistero e paranormale, nella sua ultima pubblicazione dal titolo 2021 Gli UFO sono reali, edita dalla casa editrice Intermedia Edizioni, vede presente la prefazione a cura del sociologo e responsabile del portale Mystery Channel Show Dario Sanfilippo. Tra i nomi delle persone intervistate vi sono gli autorevoli ricercatori Simone Leoni, Sergio Succo, il ricercatore nonché presidente FUI Federazione Ufologica Italiana Danilo Ios e la ricercatrice Federica Baldi. L'autore Mario Contino presenta all'interno della sua ultima opera una vastissima panoramica di episodi circostanziati, avvistamenti e testimonianze di documenti che non possono ormai più essere negati tra i più attendibili riscontrati. Sull'esistenza degli UFO oggi non è possibile fornire una risposta ufficialmente valida, essendo gli studi ancora sperimentali a causa dell'assenza di prove analizzabili, con quello che lo stesso Galileo Galilei definì metodo scientifico. Tuttavia non è errato o poco plausibile affermare che essi siano una tecnologia aliena o civile che trae origine dello studio di tecnologia aliena o retroingegnerie. Trame oscure e misteriose circondano il fenomeno UFO alieni, il cosiddetto ago della bilancia, che secondo l'autore Mario Contino equilibra i livelli di forza militare delle nazioni in uno scontro sotterraneo tra potenze economiche e militari che puntano al controllo del pianeta.